Il Festival delle Virtue dell'Eno Gastronomia Terramana organizzato dall'assessorato agli eventi del Comune di Teramo sembrerebbe non piacere soprattutto per la sua organizzazione ai ristoranti storici della città. In particolar modo a Marcello Schillaci, re della cucina tipica terramana. Manifestazione che si svolgerà da domani fino al 5 maggio e che sarà dedicata al piatto tipico del primo maggio per eccellenza, Le Virtue, l'unico ad aver meritato un rigido disciplinare realizzato da un team di esperti di storia, enogastronomia e sociologia e riconosciuto anche a livello ministeriale, una vera e propria istituzione per i ristoratori tipici terramani che hanno storto in naso di fronte all'iniziativa del Comune. Ogni volta perdiamo una grande occasione per lanciare oltre questo piatto ma soprattutto la città di Teramo a livello gastronomico nazionale. Questo piatto è un piatto straordinario che fa parte della cultura terramana, non può essere trattato in maniera così superficiale. Merita una grossa attenzione, soprattutto merita un progetto, merita un grande evento perché se è vero che Le Virtue hanno una durata breve come piatto, però è anche vero che c'è una risonanza tale che dà inizio a una stagione gastronomica quale potrebbe essere la gastronomia terramana. Per cui richiediamo un po' più di attenzione perché se si sbaglia il messaggio poi si crea un po' di confusione sia per il ristoratore e sia per il turista. Perché poi c'è il rischio che Le Virtue si trasformino in un ministrone? Ma sì, perché se poi agli addetti lavori, specie alle giovani leve, non gli viene in qualche modo trasmesso perché poi il disciplinare ha questa grande qualità, quella di dire come si vengono fatte le virtù, i vari passaggi, i vari ingredienti, le varie cose. Le virtù comunque rimane un piatto difficilissimo, non è alla portata di tutti, però chiaramente se ci si lavora, se si crea una squadra, se si crea un interesse, una buona comunicazione, Terramo diventerà per quanto riguarda questo periodo, il mese di maggio, la capitale d'Italia della gastronomia.